In questa video lezione è contenuta una lunga serie di frasi scritte in italiano e che tu dovrai tradurre in tedesco. Ad ogni frase avrai 5 secondi di tempo. Buon divertimento! Io sono molto forte. Ich bin sehr stark. Brigitte è a casa andata. Brigitte è a casa andata. Brigitte ist nach Hause gegangen. Brigitte è a casa andata. Brigitte ist nach Hause gegangen. Attualmente il tempo per Berlino è caldo. Attualmente il tempo per Berlino è caldo. Attualmente il tempo per Berlino è caldo. Marco ha un grosso errore fatto. Mark ha un grosso errore fatto. Mark ha fatto una grande errore. Marco ha un grosso errore fatto. Mark ha fatto una grande errore. Ieri eravamo noi stanchi. Ieri eravamo noi stanchi. Gestehen waren via miude. Ieri eravamo noi stanchi. Gestehen waren via miude. Io andai da mio padre. Io andai da mio padre. Ich ging zu meinem Vater. Elfriede ha un cane. Elfriede ha un cane. Elfriede hat einen Hund. Sopra e sotto sono degli avverbi di luogo. Sopra e sotto sono degli avverbi di luogo. Oben und unten sind die Otzerwebien. Sopra e sotto sono degli avverbi di luogo. Oben und unten sind die Otzerwebien. Quasi e poco sono degli avverbi di quantità. Quasi e poco sono degli avverbi di quantità. Fast und wenig sind die Adverbien der Menge. Quasi e poco sono degli avverbi di quantità. Fast und wenig sind die Adverbien der Menge. Il limone è giallo. Il limone è giallo. Di citrone ist gelp. Il limone è giallo. Di citrone ist gelp. Il mio cappello è rosso. 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 Il limone è giallo. lei è malata, si è krank.